Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle scarpa Spin ST, ovvero la scarpa per correre sia su fango che su neve di casa scarpa, di cui adesso ne vediamo pregi e difetti all'interno di una recensione completa. Iniziamo come solito dalla suola di queste Spin ST. Qui troviamo una suola Vibram Mega Grip con tecnologia Traction Lag e un tassello, pensate un po' da 7 mm. Questo tassello è incredibilmente alto e gli garantisce un grip fenomenale. Vi assicuro tra neve, fango, anche il fango quello bello viscido dove di solito non tiene nessuna suola, questa tiene. Sia grazie appunto a questi 7 mm di tassello, ma anche grazie alla tecnologia Traction Lag che poi va a espellere il fango. Infatti, avendo anche pochi tasselli, devo dire che questa suola si pulisce molto in fretta. Per quanto riguarda poi la tenuta, beh, è comunque una suola Mega Grip, vi assicuro che anche su roccia bagnata tiene veramente molto molto bene. Quella dove non vi consiglio di utilizzarla è sui terreni duri, come possono essere estrarre il fondo valle, mulattiere, via dicendo. Perché in quel caso avere 7 mm sotto, ecco, diciamo che dà un pochino fastidio e brucerete molto più velocemente la suola. Passando invece all'intersuola, qui troviamo un classico intersuola in eva. Un drop di 4 mm perché abbiamo 22 mm di altezza sul tallone e 18 sull'avampiede. Un'intersuola molto reattivo, vi assicuro che con questa scarpa si può correre a dei ritmi folli, cioè potete correre anche a 3 km senza nessun problema. È sicuramente magari meno pensata per chi invece va a dei ritmi più blandi, ma è una scarpa veramente molto reattiva. L'aspetto che poi mi è piaciuto è che all'interno troviamo anche un plate in TPU, sia da stabilità alla scarpa, che poi va ad assorbire tutti gli urti, evitando che se camminiamo su radici o su rocce puntite sentiamo male alla pianta del piede. Quindi anche da questo punto di vista direi molto ben progettata. Passando a parlare della tomaia, iniziamo dal puntale. Qui troviamo un puntale mediamente strutturato, per intenderci se sfiorate qualche roccia o qualche radice nessun problema, ma se tirate un calcio secco a una roccia è male, lo sentite. La tomaia in sé poi è estremamente traspirante. Non saprei dirvi se è la scarpa più traspirante che esiste al mondo, ma sicuramente è nella top 5, perché è veramente traspirante. Questa traspirabilità è garantita anche dal fatto che non ha una membrana impermeabile. Qui si può aprire un grosso discorso e dire bene o non bene che non abbia una membrana. Secondo me ci sta. Dobbiamo pensare ad utilizzare questa scarpa in delle gare dove c'è tanto fango, dove piove, eccetera. O prendiamo una scarpa con la ghetta, e in quel caso abbiamo le ribelle Run Calibra che hanno la ghetta, oppure avere una scarpa estremamente traspirante è decisamente meglio che averne una con membrana in Gore-Tex, dove se entra l'acqua poi non esce più. Quindi penso che questo tipo di scarpa sia stata veramente una genialata a farla senza la membrana in Gore-Tex. A livello poi di tallone, qui abbiamo un tallone abbastanza classico, ben strutturato nella parte inferiore, che si distruttura pian piano che saliamo. Troviamo poi anche una piccola ghetta nella parte superiore, molto morbida, che avvolge il piede e evita l'ingresso dei detriti. Per quanto riguarda invece la linguetta classica, una linguetta molto stabile, non si muove, molto classica. Un'altra novità poi che troviamo sulla parte superiore è la chiusura col sistema NBS. Devo dire, è un sistema molto semplice, molto veloce da allacciare, un sistema che non fa scorrere le stringhe. Devo dire, mi sono trovato veramente molto bene, mi ha stupito, è la prima volta che lo provavo e devo dire che è stata un'ottima scoperta. E per quanto riguarda la calzata, è una scarpa che non è larga ma non è nemmeno stretta, diciamo una via di mezzo, grandezza normale. Quindi se di scarpa avete sempre preso un mezzo numero in più, vi consiglio un mezzo numero in più anche di questa. Per quanto riguarda invece come fasce attorno al nostro piede, devo dire che questo esoscheletro fatto sulla tomaia e grazie anche ai lacci, fa sì che la scarpa veramente calzi molto bene attorno al piede, è come praticamente avere una seconda pelle. La scarpa risulta essere veramente un tutturo con il nostro piede. Passando invece a vedere a che tipo di atleta la consiglio, beh io direi un'atleta molto veloce, un'atleta che ha una buona dinamica di corsa, un'atleta che corre anche ad un certo ritmo. Se siete delle persone che corrono a dei ritmi abbastanza bassi, attorno al 6 km eccetera, magari non è la scarpa per voi, ci sono altre scarpe nella collezione di scarpa che sono sicuramente più adatte. A livello di terreno, come vi dicevo, vanno benissimo su terreni morbidi, quindi fango, neve eccetera. Piccola precisazione, mio consiglio, se dovete andare su neve estremamente sfondosa, bella, farinosa, allora magari andrai sulle calibra che hanno la ghetta. Queste sono sicuramente delle scarpe poi pensate per chi parte e fa delle gare molto veloci, quindi anche con distanze magari fino ai 30-35 km. Non sono sicuramente delle scarpe pensate per fare tantissimi chilometri e con quale fare tante ore di allenamento. Detto ciò dunque arriviamo alle conclusioni. Iniziamo dal prezzo, queste scarpe spin ST le si trovano online sui 140-150€. Ve le consiglio? Sì, perché comunque secondo me è un'ottima scarpa. Sta a voi decidere se può aver senso per voi acquistarla, se andate su questi tipi di terreni, se siete degli atleti abbastanza veloci che riuscirebbero a sfruttarla bene, oppure se siete delle persone più grosse che non hanno grosse pretese e non puntano alla performance, magari dobbiamo investire questi soldi in altri tipi di calzature. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio la guardate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!